Siamo l'unico paese al mondo nel quale un banale incidente stradale può diventare oggetto di sciacallaggio politico, un abbraccio a Sara che è tornata regolarmente a casa senza problemi, un rinnovato abbraccio al pape e alla mamma, persone civilissime e con cui ci siamo sentiti ieri. Quanto al controsenso, non c'entra nulla, lo scrive su Facebook il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, all'indomani di un incidente stradale, ieri a Salerno dove l'auto di servizio con a bordo governatore si scontrata con una ragazza a bordo di uno scooter, l'auto di servizio si è messa sulla strada principale impegnandola senza che il conducente si accorgesse del motorino proveniente da destra, in quella stradina tra cinque palazzi indicato sulla segnaletica il doppio senso di circolazione. Per le forze di polizia, l'autista alla guida, agente della polizia locale, non ha infranto alcuna legge sottolinea Matà. Rimango convinto che lo sciacallaggio offende chi lo pratica, non chi lo subisce.